La Regione, come tutti sapete, ha comunicato un decesso a Villa Santa Maria per Covid. Purtroppo abbiamo perso una cara concittadina in questo tragico momento. Una delle riflessioni che faccio è che purtroppo la sanità non è sempre in grado di risolvere i problemi, come in questo caso, anche se mi mette molto impegno. E una delle problematiche che riscontriamo noi sindaci e anch'io è quella della velocità nel sapere, nell'avere notizie. Quindi diciamo che sotto il profilo della comunicazione siamo molto, molto indietro. Noi avremmo il desiderio di poter sapere le notizie in tempo reale. Questo non avviene, soprattutto con i tamponi che vengono effettuati. Arrivano molti giorni dopo e quindi per noi è difficoltoso anche poter mettere in quarantena quelli che sono i familiari o le persone vicino al cittadino in presenza di un tampone positivo. Più volte ho richiesto via mail alla ASL di poter effettuare tamponi nella nostra residenza assistenziale e nonostante ci siano delle circolari ben precise che dettano questa esigenza, non sono state ancora fatti. Quindi c'è qualcosa che non funziona in tutto questo sistema. Non devo dirlo solo io, non lo dico solo io, però è certo che bisogna migliorarlo per fare in modo che non dilaghi questa emergenza. Noi sindaci siamo in grado di trovare soluzioni a moltissime cose, siamo in grado di organizzarci da solo per quanto riguarda con la protezione civile H24, nel poter arrivare nelle case dei più deboli, nelle persone bisognose, ma sotto il profilo degli esami bisogna che la regione, e quindi di conseguenza le ASL abbiano la possibilità di far sapere in tempo reale ai sindaci quelli che sono gli esiti dei tamponi. Basterebbe una semplice telefonata al posto di aspettare giornate e giornate e giornate una PEC o una mail.